Sarebbe disponibile a provare a piegare questo righello? Cioè in che senso? Piega piega E va si rompe Ci vada qualcuno Posso farci un nodo? Piega 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 Tutto vado 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 no Piega 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 dai dai piega Sì ancora eh eh non si rompe Non si rompe? Non si rompe Non si rompe Non si rompe E' bellissimo Servirà mio figlio